Tutto pronto per il cartellone che animerà in estate il borgo e il santuario di San Pietro Allaienca. Tante iniziative che partiranno il 21 giugno, ma purtroppo i soliti problemi che riguardano la zona, spesso preda di atti vandalici. Per il presidente dell'Associazione Culturale San Pietro Allaienca si sta scatenando l'invidia contro chi intui a suo tempo le potenzialità del borgo. Lavori ancora non completati e i soliti disagi a causa dei parcheggi che mancano. Dal 21 giugno al 6 settembre intanto incontri di cultura nel giardino letterario. Il 5 agosto ci sarà l'attrice Claudia Coll che racconterà il suo cammino spirituale. Il 9 agosto la stella della Ienca consegnata alla città di Assisi. Da parte dell'assessore al turismo del comune dell'Aquila de Santis un appello invece alle imprese che operano all'Aquila. Adottate un'iniziativa, chiede, contribuite, mentre quel famoso progetto datato ormai due anni fa di imprenditori interessati all'area rimane nei cassetti in attesa dei pareri. L'associazione per mancanza di fondi è stata anche costretta a disdire il concerto di Paolo Vallesi. Troppo costoso, solo la fondazione Cari spacca aiuta. Io sono convinto di una cosa, che su questo discorso santuario non ci credeva nessuno. E ora è scattata l'invidia. E io posso dire anche tra i politici. I lavori? I lavori, i suoi ribagni sono in corso di consegna di lavori ma non ancora viene. I parcheggi che erano già previsti, è un anno che la Commissione aveva appoggiato un progetto molto buono che il tecnico non ancora ci rimette mano a fare questo progetto.